Roberto Eccoci Caterina, buon pomeriggio buon pomeriggio a Giulia Sarti deputata del Movimento 5 Stelle che oggi in aula ha illustrato la mozione di sfiducia al Ministro Cancellieri l'esito della votazione era abbastanza scontato perché tutta la maggioranza ha fatto quadrato intorno al Ministro, quindi la mozione è stata votata solamente dalle opposizioni sentiamo che cosa ha detto il Ministro Cancellieri in aula e poi lo commentiamo con la deputata Sarti Non ho mentito dunque al Parlamento né ai magistrati su alcun elemento di fatto che poteva essere utile a chiarire ogni aspetto della vicenda Non ho mentito neppure sulle mie amicizie con uno dei membri della famiglia di Gresti Antonino, siamo amici da molti anni, è amico di mio marito ci vediamo e ci sentiamo spesso al telefono, respingo con forza l'automatismo privo di qualunque sostanza secondo il quale da questo rapporto di amicizia sarebbero derivati favoritismi o addirittura abusi connessi con il ruolo istituzionale da me ricoperto i fatti dimostrano il contrario c'è un passaggio della mozione Allora perché non vi ha convinto questa autodifesa strenua abbiamo sentito anche toni molto decisi da parte del Ministro anche toni molto più forti rispetto all'altra volta Il Ministro Cancellieri non ha capito che qui non era non si poneva il problema dal punto di vista delle responsabilità penali quello è un lavoro che spetta quello dell'accertamento delle responsabilità penali semmai alla magistratura noi abbiamo voluto mettere in luce il problema dal punto di vista politico un Ministro della Giustizia non può continuare visto l'importanza del suo incarico ad avere rapporti d'amicizia e di quel tipo con una famiglia come quella dei Ligresti nota famiglia delinquenziale ricordiamolo che hanno probabilmente sono imputati per falso in bilancio un buco di bilancio da 600 milioni di euro ricordiamolo il figlio di Salvatore Ligresti è ancora latitante in Svizzera ecco un Ministro della Giustizia il Ministro della Giustizia che noi vorremmo dovrebbe essere super parte se imparziale di fronte a certe richieste lei dice di averlo fatto anche per altri deputati perdone per altri detenuti di essere intervenuta e questo non c'entra assolutamente con la vicenda perché come abbiamo detto il Ministro della Giustizia dovrebbe occuparsi di tutta la comunità non di casi specifici eventualmente da risolvere e poi non dovrebbe appunto fare telefonate per tentare di sensibilizzare ancora di più vicecapi del DAP sulla situazione di una sola detenuta o anche appunto come ha detto lei di altri casi lei ha fatto delle allusioni anche piuttosto pesanti diciamo ha una sorta ha all'uso una specie di doubt death tra il figlio del Ministro Cancellieri e poi un appalto che sarebbe stato dato a Telecom ho messo in chiaro un netto conflitto di interesse da parte nostra perché Pier Giorgio Peluso figlio del Ministro Cancellieri è attualmente dirigente all'interno di Telecom per quanto riguarda l'amministrazione la finanza e il controllo bene sappiamo che l'affare dei braccialetti elettronici che ci costa ogni anno 9 milioni di euro è un affare fallimentare ebbene questo affare lo gestisce direttamente Telecom e il contratto fatto per affidare a Telecom il servizio sui braccialetti elettronici è stato approvato proprio dal Ministro Cancellieri che era nel 2011 Ministro dell'Interno dopo pochi mesi Pier Giorgio Peluso diventa dirigente in Telecom e secondo noi qui ci sono benissimo dei tanti profili per pensare che forse ci sono tante cose che non vengono dette che non vengono fuori e che invece dovrebbero essere sviscerate di più non solo dagli organi di stampa ma anche all'interno delle aule parlamentari siamo in chiusura ma torniamo un attimo alla questione politica della mozione di oggi il PD ha avuto molti mal di pancia oggi nel confermare la fiducia al Ministro Cancellieri ce l'avevate forse quasi fatta a portarli per una volta dalla vostra parte ma si hanno dimostrato ancora di più secondo me quanto è grande il distacco tra ciò che chiedono i cittadini e i loro stessi elettori e ciò che poi fanno loro prendendo queste decisioni oggi abbiamo assistito ad un voto che è stato un diktat fondamentalmente da parte di Napolitano da una parte eletta dall'altra il PD si è ricompattato addirittura il Presidente del Consiglio si è permesso di parlare di aggressione no da parte del Movimento 5 Stelle nei confronti del Ministro Cancellieri bene noi riteniamo che l'aggressione sia la dimostrazione di giustizia che il Ministro ha dato a tutti i cittadini italiani la giustizia fa parte dei fa vincere sempre i più forti e non i deboli grazie a Giulia Sarti la linea torna allo studio grazie Roberto grazie a entrambi